Se stai scaricando delle applicazioni su tuo Windows 11 ma ti blocca così l'applicazione non riesce ad andare avanti puoi semplicemente andare sulla sicurezza di Windows Defender qua sotto oppure scrivi direttamente qua sopra sicurezza di Windows, ci clicchiamo sopra, vai direttamente su controllo delle app e del browser, vai direttamente su impostazioni di protezioni basate sulla reputazione scendi fino a giù fino a trovare blocco app potenzialmente indesiderata. Quindi basta che tu disattivi questa protezione blocco app blocchi download così facendo potrai scaricare e installare qualsiasi applicazione che vuoi sul tuo computer e ovviamente la tengo attiva. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.